è uno che si fa male, del solito il portiere ha il ciappa, il ciappa lo porta in una scappata il ciappa lo butta fuori, ferma giù, vieni la griglia, questi guanti roti, bisogna anche cambiare i guanti fine, non è un'astaria, il cigarro, il brai, il taro? questo è il consiglio che ti do io, se domande se sbaga la scappa, te fai la stessa roba se domande se casca le braghe, te fai la stessa roba però non ti permetti alle più, porto Dio a fare così! perché è dall'archia sta la merda di esugo fine allora il concetto è questo ma veramente molto sintetico veramente molto sintetico domenica in campo tutti parlavano